berlusconi documentario tv russa ebbene sì avete capito bene quei sempliconi della tv di stato della russia hanno trasmesso di recente o meglio ieri 24 giugno 2023 un documentario incentrato su silvio berlusconi personaggio che è morta 86 anni di età all'ospedale san raffaele di milano durante la ribellione dei medicinali della wagner e i timori di un possibile colpo di stato a vladimir putin è stato francis scar giornalista bbc che va a controllare i canali di informazione a rilanciare la news in questione il canale di stato russo chiamato russia 24 non ha ignorato il tutto gli eventi in corso ma hanno voluto trasmettere un documentario incentrato sulla figura pilastro del nostro paese d'italia quella di silvio berlusconi che ripeto di recente è morto 86 anni di età hanno pubblicato anche una foto della trasmissione vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi carissimi utenti di youtube mi raccomando di iscrivervi al canale di farmi sapere cosa ne pensate insomma trasmettere un documentario su berlusconi grazie buoni saluto se incredibili mati